Due settimane dedicate ad un grande lavoro in vista di un girone di ritorno nel quale il vasto Girardi vuole essere protagonista. Ruggeri e soci nel quartier generale di Fornelli riprendono gli allenamenti dopo alcuni giorni di meritato riposo e con alle spalle i tre successi casalinghi consecutivi che hanno proiettato i giallo-blu nella colonna di sinistra della classifica in piena corsa play-off. Il presidente Andrea Dilucente non si illude e sa bene che il cammino è ancora molto lungo ma nel contempo si gode le prestazioni dei suoi ragazzi capaci di mandare al tappeto dirette concorrenti ma anche formazioni blasonate come il Trastevere. I giallo-blu non hanno positivi in organico e dunque contano di sfruttare le due settimane di stop per effettuare un lavoro di ripristino che possa permettere di arrivare nel momento decisivo della stagione in condizioni ottimali. Allenamenti che serviranno a preparare dettagliatamente il match in programma a Castelnuovo-Vomano il 23 gennaio match valido come ultima del girone di andata. Un'altra ghiotta occasione per fare un passo decisivo verso la salvezza e continuare a scalare la classifica i terramani. Infatti sono una buona squadra ma decisamente alla portata degli altomolisani sempre più trascinati da un guida in forma smaiante. Grazie per la visione!